incontro a Castiglione della Presolana con sindaci e parlamentari bergamaschi tema le Olimpiadi Invernali 2026 il ruolo del territorio bergamasco verso la costituzione di un comitato Elezioni a Clusone entra nel vivo la campagna elettorale Antonella Luzzana presenta con una breve intervista il nuovo progetto elettorale di centrodestra per Clusone Alto Sebino ha segnali positivi sulla stagione estiva soprattutto grazie alla presenza di turisti italiani cresce l'interesse per le attività all'aperto e in barca Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antenna 2 Un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco dopo le 22.30 a Esine in via Marconi alla guida di una moto per cause imprecisate si è scontrato contro un'automobile guidata da una persona di 45 anni per il soccorso sono state inviate due ambulanze e anche l'elicottero decollato da Brescia il 15enne è stato caricato sul velivolo e trasportato in codice rosso all'ospedale Papo Giovanni XXIII di Bergamo Due giovani di 19 e 25 anni sono rimasti feriti in uno scontro tra due automobili avvenuto ieri sera verso le 20.30 a Endine lungo la statale dell'Etonale a pochi passi dal municipio si sono scontrate una Fiat Punto guidata da un 19enne di origine marocchina è residente a Sovere è una Volkswagen Polo guidata da un 25enne abitante anche lui a Sovere nell'impatto i due conducenti hanno riportato vari traumi e contusioni il più grave di 19 anni è stato portato con l'elicottero alla civile di Brescia dove è giunto in codice rosso il 25enne è stato invece ricoverato in codice giallo l'ospedale di Lovere con un'ambulanza della Croce Blu di Lovere per i rilievi e per ricostruire la dinamica sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Clusone soccorsi in azione a Vertova nelle pomeriggio di oggi l'allarme è scattato intorno alle 15 nella zona di via Canale sul posto in codice rosso un'automobile con il medico a bordo e un'ambulanza della Croce Rossa italiana di Alzano Lombardo soccorso un ragazzo di 29 anni meno gravi di come erano parse in un primo momento le sue condizioni i sanitari una volta giunti sul posto hanno infatti operato in codice verde secondo una prima ricostruzione sembra che il giovane fosse in prossimità del fiume Serio in cerca di un po' di refrigerio il giovane è entrato in acqua e non sentendosi bene sono stati allertati i soccorsi e come vi abbiamo anticipato con l'edizione di ieri sera del nostro telegiornale ieri a Castellina Presonana si è tenuto un incontro con alcuni sindaci del nostro territorio e parlamentari bergamaschi si è parlato delle Olimpiadi Invernali del 2026 e del ruolo che potrebbe giocare il nostro territorio vediamo il dossier è chiuso e quindi è stato votato dal CIO è difficile cambiare le varie venues e portare le discipline che sono già state assegnate però credo che eventi collaterali allenamenti insomma tanti progetti si possono fare così come parlando con l'assessore Cambiaghi la volontà di investire nelle infrastrutture quindi penso agli impianti di salita via dicendo con bandi regionali questo sicuramente parlando con il presidente Roda della federazione sport invernali inizieremo un tour nei vari comprensori per capire la disponibilità delle nazioni anche per venire a allenarsi per capire la specificità delle piste che potremo andare a offrire a livello internazionale penso che si possa agire anche a livello internazionale con degli accordi penso anche a quello che è stato fatto con l'Atalanta con la Cina nel mondo del calcio così come visto che Pechino saranno i prossimi giochi invernali fare degli scambi con loro penso che sia molto importante quindi in questo caso Bergamo è parte già avvantaggiata anche per delle relazioni che ha tenuto in questi anni con diverse comunità internazionali per me promuovere questa valle è facile è facile perché a Bergamo sono nate tre campionesse olimpiche la prima sicuramente è Paola Magoni che ha vinto la prima medaglia d'oro delle Olimpiadi Invernali poi che ha ringraziato la Val Siriana per questa sua vittoria abbiamo la vittoria di Sofia Goggia che ha ringraziato la Val Brembana abbiamo la vittoria di Michela Moioli che ha ringraziato le Val di Scalve quindi io auspico fortemente che questa sera è stata una serata molto importante di confronto che nasca una squadra importante che faccia sinergia ma soprattutto che da 2022 possiamo utilizzare il logo olimpico le valli bergamasche sono olimpiche valli olimpiche quindi chi accederà all'aeroporto di Orio a Serio che sarà l'aeroporto più importante di queste Olimpiade perché il traffico low cost lo porta tutto qua al 70% lo gestisce Ryanair e quindi a destinazione Lab si trova a Orio a Serio possa veramente portare sul territorio prima, durante e dopo turisti sul territorio io sono convinta di questa forza anche perché è in programma con il mio assessorato anche in sinergia con l'assessorato del Veneto che è rappresentato da Caner un percorso di promozione che farà sinergia su tutti i territori è impensabile quindi pensare a Milano-Cortina Milano-Valtellina ma una Lombardia segreta che potrà esprimere al meglio tutte le sue potenzialità Bergamo secondo me potrà avere i suoi spazi però non un libro dei sogni ma cose concrete Beh, oggi si realizza la prima parte di un sogno ma i sogni non sono fatti per essere lasciati nel cassetto ma per essere realizzati quindi quello che è stato diciamo l'impulso istintivo che io ma come tanti altri ma io in particolare in Senato ho avuto il giorno che mi sono trovata davanti il ministro Spadafore parlavamo del decreto Olimpiadi ovvero di coinvolgere le valli bergamasche in questo grande progetto delle Olimpiadi Invernali 2026 oggi comincia a camminare oggi ci siamo ritrovati tutti senza distinzioni partitiche ma soltanto tutti insieme sotto la grande bandiera dell'amore verso le nostre valli bergamasche io credo che quello che è successo a Bergamo e nelle nostre valli sia stato un evento veramente ahimè eccezionale e quindi può far presupporre un'eccezione affinché il Comitato Olimpico possa pensare di coinvolgerci a pieno titolo all'interno di un percorso olimpico così importante e non non vogliamo essere invadenti ma vogliamo essere così vogliamo essere coinvolti ma penso che sia stata una riunione proficua che ha visto l'intervento di quasi tutti i parlamentari bergamaschi anche quelli che non hanno potuto venire hanno comunque dato l'adesione dei consiglieri regionali e della regione credo sia il primo passo per cui il territorio si muove unito per ottenere questo risultato tramite la costituzione di un comitato la preparazione di un dossier e vedersi di portare a casa qualcosa penso che il comitato adesso dovrà capire e trovare bene gli allenamenti e le gare da proporre al comitato può essere che già a settembre venga qualche rappresentante del comitato olimpico nazionale e si comincia anche a parlare di questo e a Clusone entra nel vivo la campagna elettorale il 20 e 21 settembre i cittadini Baradelli potranno scegliere tra due liste la civica con candidato sindaco Massimo Morstabilini Clusone al massimo e centrodestra per Clusone con candidata sindaco Antonella Luzzana quest'ultima lista ha ottenuto i simboli di tre partiti Lega Forza Italia Fratelli d'Italia ecco in breve una prima intervista da Antonella Luzzana sul suo progetto elettorale ecco già da tempo si parlava della sua candidatura poi è arrivata l'ufficialità innanzitutto perché candidarsi la carica di prima cittadina per un senso di responsabilità che mi sembra di aver dimostrato in questi dieci anni di amministrazione i primi cinque da assessore in parte a vice sindaco e gli altri cinque gli ultimi cinque subito da vice sindaco con i quattro assessorati pertanto ho ritenuto doveroso continuare questo percorso per dare continuità a tutto il lavoro che c'è ancora da fare che è stato intrapreso che deve essere ultimato e per dare il nuovo slancio che abbiamo in mente di dare in un'ottica appunto nuova alla luce anche di quanto il 2020 ci ha presentato per quanto riguarda la sua squadra è una squadra contrassegnata dai tre simboli politici Forza Italia Lega e Fratelli d'Italia quindi ha una forte connotazione politica con un'alleanza ben definita e stabilita fortemente voluta da me per identificare quello che è il mio senso di appartenenza in modo da non equivocare neanche il voto dei cittadini quindi ho ritenuto fondamentale che anche tutta la squadra avesse questa connotazione una squadra nata in parte da un processo di continuità e invece da elementi nuovi che negli anni alcuni ci hanno seguito e alcuni invece vogliono intraprendere questa avventura che è comunque bella e piena di stimoli e naturalmente impegnativa perché quello che ho richiesto a tutti è senso di responsabilità e anche di sobrietà allo stesso tempo perché fare l'amministratore oggi vuol dire impegnarsi non abbiamo bisogno di consulenti ma invece abbiamo bisogno di persone che mettono in atto tutte le loro risorse le loro capacità per mettere a disposizione per essere a servizio di quella che è la nostra collettività Ci può anticipare alcuni punti del programma? Allora i punti del programma spaziano da quello che in primis abbiamo messo il bilancio perché comunque sappiamo benissimo che i conti in ordine sono la prima la prima la cosa più importante anche perché poi questo ci permette di usare poi queste risorse nel migliorio dei modi e ci permette anche di avere la tranquillità per poi fare delle opere quindi da una parte il bilancio dall'altro l'attenzione un welfare dei cittadini che mi ha connotato in questi anni quindi un'attenzione ai bisogni delle persone da 0 a 99 con tutte le connotazioni e le accezioni in particolare alle famiglie poi abbiamo messo le cose importanti alcune opere pubbliche che noi riteniamo importanti quali sia il completamento di tutte le opere che abbiamo messo in atto quali alcune vie principali la piazza Sant'Andrea e abbiamo anche in essere due progetti importanti quali la ristrutturazione del Collegio Angelo Mai e anche dell'Ala Sud del Palazzo Municipale insieme a questo abbiamo tanto altro ma soprattutto ristabilire delle buone relazioni perché il futuro che abbiamo davanti seppur lo vogliamo vedere con una forte accezione di ottimismo ma sappiamo che non sarà facile quindi l'occhio di riguardo sarà anche per il lavoro di tutti e non dimentico il commercio e il turismo che porteranno via e saranno una forte sfida per quello che sarà la nuova amministrazione e sul nostro sito maivale.it potete trovare in un articolo pubblicato nel pomeriggio tutte le fotografie dei candidati consiglieri e il programma elettorale della lista centrodestra per Clusone e passiamo ai dati legati alla diffusione del coronavirus in Lombardia aggiornati al 25 agosto i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono quasi 10.000 9.876 i nuovi casi positivi 119 di cui 23 classificati come debolmente positivi e 0 a seguito di test serologico i guariti più 196 in terapia intensiva il dato resta invariato ci sono ancora 15 persone i ricoverati non in terapia intensiva più 5 complessivamente 158 nelle ultime 24 ore non si registrano decessi passiamo i nuovi casi positivi al coronavirus per provincia Bergamo 5 Brescia 25 ora voltiamo a pagina ci occupiamo di turismo e in modo particolare delle prime impressioni sulla stagione turistica sull'Alto Sebino un bilancio positivo sono davvero tante le persone che anche quest'anno hanno premiato il territorio contrariamente agli anni scorsi nei quali abbiamo registrato un trend estremamente positivo delle presenze turistiche di stranieri soprattutto belgi francesi tedeschi e nord europei quest'anno il lago di Sio è stato veramente privilegiato dai turisti italiani turisti italiani e lombardi in primis e poi anche delle regioni confinanti quindi Piemonte Emilia e Veneto buono devo dire anche in base a un'andagine effettuata a campioni in alcune strutture ricettive il trend delle presenze proprio in tutte le tipologie alberghiere extra alberghiere con strutture pressoché al completo nel mese di agosto il mese di luglio che è andato abbastanza bene quindi il trend anche in questo caso è positivo speriamo che possa continuare così complice il bel tempo e speriamo che anche il covid rimanga sotto controllo e noi sicuramente in una situazione di tranquillità come territorio ne potremo solo che beneficiare sono cambiate le abitudini e sono diverse anche gli utenti sì appunto quest'anno avendo più lombardi più italiani abbiamo visto proprio crescere il numero delle richieste per il noleggio di imbarcazioni elettriche per esempio quelle affettate al porto turistico o a motore nei punti di noleggio presenti sul lago sono sempre state gettonate ma quest'anno lo sono ancora di più le passeggiate passeggiate sia trekking escursionismo sia morbidi piacevoli per le famiglie un must sempre del territorio costituito dall'esperienza di vivere il lago a bordo del battello abbiamo fortunatamente adesso due o tre battelle a seconda del fatto che si sia in settimana o nei fini di settimana che collegano l'alto lago verso Montisola e verso Iseo e devo dire che tanta gente ha scelto di prenotare il biglietto online e noi in questo caso siamo stati di grande supporto per agevolare la prenotazione perché gli italiani lo ricordo sempre non sono proprio così avvezzi alla tecnologia all'utilizzo della carta di credito e tanta gente invista ai nostri borghi in primis sicuramente ad uno dei borghi bibili d'Italia e devo dire che stiamo constatando come sia crescente l'attenzione dell'interesse verso questo cammino che è il cammino di Carlo Magno che in sei tappe collega il lago di Sio Lovere a Ponte di Legno e noi siamo proprio il luogo il primo punto che questi pellegrini incontrano e rilasciamo e poniamo il timbro sulla loro credenziale oltre ovviamente a fornire informazioni sul percorso e quindi quale direzione seguire per concludere la prima tappa e ricordiamo anche i prossimi appuntamenti allora terzo appuntamento con il cinema all'aperto a Sovere al Burgo del Filattoio il 28 28 sera un imperdibile la carica del 101 nel fine settimana all'Overe in piazza 13 Martiri torna il mercatino regionale piemontese con le prelibatezze del Piemonte il 30 a Ronio la passeggiata verso la panchina gigante con lettura animata per i bambini presenti e tutte le domeniche alle 16 con ritrovo in piazza 13 Martiri tour alla scoperta di uno dei borghi più brevi d'Italia e ora spazio allo sport e in particolare al calcio di casa nostra in questi giorni molte squadre si stanno preparando per la nuova stagione vediamo a che punto è il Darfo Boario con il prossimo servizio di Arnaldo Guadagni si è ritrovata sabato lo stadio comunale la formazione del Darfo dopo ben sei mesi la squadra del presidente Venturi è pronta ai nastri di partenza per la nuova stagione targata 2020 2021 confermato mister Luca in Versini e confermati alcuni giocatori esperti tra quali l'attaccante Berta i difensori Tignonsini e Giorgi e anche i giamelli Guarnieri la squadra nel parco giovani sarà composta quasi tutto dal settore giovanile del Darfo mentre i nuovi acquisti ce ne sarà uno praticamente da fuori Valcamonica che è Ravelli l'estremo difensore cioè il portiere che arriva dal Cazzago Bornato Flaccadori che arriva comunque da Ranzanico poi ci saranno Franzini Danfranchi Morandini e Ferrari come nuovi innesti per la squadra nero verde il sogno però è di riuscire a riportare l'attaccante Spampatti che ha vestito due anni fa la maglia nero verde lui ha voglia di tornare a Darfo il Darfo voglia di riabbracciarlo e il sogno sembra che si possa avverare andiamo a sentire le interviste con i diretti interessati il mister Luca Inversini e il direttore tecnico Gianluigi Peguti e ti dico che le cose stanno andando molto bene i ragazzi sono molto disponibili e anche se noi abbiamo iniziato giovedì quindi due giorni fa è da due mesi che questa macchina ha preso ripartita e c'è un lavoro enorme dietro alle spalle fatto da Sergio Gabossi della società per poter osservare questo protocollo che per certi punti è molto difficile invece finora le cose stanno andando bene cioè veramente c'è un'organizzazione molto importante molto seria alle spalle e di conseguenza le cose possono capitare giuste e bene i tesseramenti diciamo sono stati a chilometro zero tutta la gente della valle e questo può anche essere positivo perché il senso di appartenenza al territorio secondo me è determinante a livello di motivazioni e quindi siamo molto contenti di questo poi siamo riusciti a prendere o confermare ai giocatori borderline come Flaccadori che abita a Endine quindi qui vicino Ferrari abita a Iseo abbiamo preso Ravelli che viene da Brescia quindi in linea di massima è gente che è motivata dal blasone comunque che questa società ha sempre avuto e ha tuttora quindi vediamo cosa riusciamo a fare poi il mercato è aperto fino al 31 ottobre chissà che non possa arrivare ancora qualcuno a darci una mano però io sono soddisfatto di questa rosa e quindi in questo momento va bene così c'è la volontà di ripartire ci sono già i calendari della Coppa Italia sappiamo che qui giocheremo 13 settembre ma non sapremo se giocheremo 13 settembre quindi ci vuole qualcosa in più da parte dei giocatori e anche da parte dello staff rispetto a quello che si dava agli altri anni perché la motivazione può venire meno proprio per questo motivo qua devo ringraziare subito la società per il lavoro che è stato fatto in questi mesi a livello organizzativo per metterci nella condizione di essere questa mattina allenarci tranquillamente rispettando tutte quelle che sono le disposizioni di legge che ci sono al riguardo ma gli obiettivi visto anche diciamo così come stanno andando l'anno scorso e sicuramente non lo dico tanto per dire quello della salvezza questo deve essere il primo obiettivo siamo convinti anche quest'anno di aver fatto una discreta squadra per la categoria che dobbiamo affrontare un mix di vecchi tra virgolette della zona come era un po' l'input della società con tanti giovani molti di questi che vengono dal nostro settore giovanile lo staff ripeto è affidabile per il lavoro che deve fare quindi siamo fiduciosi e vediamo poi sempre il campo che i risultati ci dà eccoci la programmazione televisiva questa sera sulle canali 88 alle 20.40 il Sasson dello Stagno alle 21.30 Antena 2 Sport a cura di Lisa Cucchi alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.10 Potadea alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario sul canale numero 218 le 21.30 lo ricordiamo trasmetteremo ancora il nostro telegiornale sul canale sportivo al numero 628 le 20.30 una partita di calcio in replica Virtus Lover e Villadonia alle 22.30 un'altra partita di calcio in replica Vertovese Casatese Rogoredo l'Almanacco per domani mercoledì 26 agosto il sole sorge alle 6.29 e tramonta alle 20.14 il culmine è alle ore 13.22 la durata del giorno è di 13 ore e 45 minuti la luna sorge alle 15.26 e tramonta alla mezzanotte e 31 di giovedì la fase lunare la luna è crescente ed è visibile al 56% la chiesa ricorda Sant'Alessandro Martire e con questo è tutto vi ricordiamo che a seguire vi saranno le prisioni del tempo grazie e buon proseguimento di serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti